facciamo gli alert facciamo questo dialogo Cristian questo dialogo Cristian con te non ci siamo sentiti dopo Roma-Napoli il tuo Roma-Napoli il tuo campo Roma-Campo e poi ti faccio qualche domanda sul mercato e mercato scusa mercato poi me l'hanno chiesto società stadio partiamo dal campo allora partiamo dal campo io credo che con la partita con Napoli abbiamo capito l'importanza dell'allenatore perché in Napoli sembrava veramente un'altra squadra rispetto a quella ammirata l'anno scorso e in mezzo al campo mancava forse uno due giocatori quindi credo che ormai il fatto che l'allenatore conti solo il 10% sia chiaro che non è così come è chiaro che Mourinho ad oggi è ancora un allenatore nettamente più fulbo e scaltro rispetto a Mazzardi a me è piaciuta la formazione iniziale ti dico la verità quindi al di là degli episodi che possono essere stati anche da una parte fortunati o comunque il gioco del Napoli sono stati battuti sui nervi però mi è piaciuta la formazione iniziale e questo gli va dato atto a Mourinho secondo me di aver azzeccato la doppia punta cosa che io ho sempre detto questo bisognerebbe fare per sfruttare anche le grosse potenzialità della Roma in attacco perché la Roma è il miglior attacco della Serie A come Rosa in assoluto insieme all'Inter e quindi bravo Mourinho che ha fatto questa cosa ti ricordi che dicevo io che Belotti e Lukaku è una coppia anche se so due è una coppia perché sono uno mancino e uno destro poi so due che si sacrificano e Belotti ha uno che svaria, si sacrifica, corre, attacca la profondità perciò per me posso giocare insieme, non so due punte che giocano solo spalla alla porta e allora no 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 sono due punte che uno va incontro l'altro attacca la profondità giocano possono giocare insieme sono d'accordo. Sì se si lavorasse su quel tipo di modulo secondo me ci sarebbero delle belle soddisfazioni vittoria importantissima perché comunque questo è un campionato che ti dà la possibilità di arrivare in Champions con molti meno punti di quelli che si pensava all'inizio proprio perché il Napoli è tornato ad essere una buona squadra niente di più una squadra da 70 72 punti non la squadra da 85 vista con Spalletti quindi va dato atto a Murigno di averla preparata molto bene anche dal punto di vista mentale a me sono piaciuti i primi 20 minuti specialmente ripeto poi io non vado a guardare l'episodio perché l'episodio una volta ti può andare bene una volta ti può andare male secondo me la Roma l'ha vinta la partita con la formazione iniziale e mentalmente era più forte del Napoli e quello è il motivo per cui poi Politano dal calcetto Osimene si nervosisce e loro in questo momento sono in grossa difficoltà e chiaramente se prendono una squadra furba come la Roma vanno in difficoltà poi secondo me se la Roma hai detto proprio hai detto una cosa giustissima all'inizio Murigno in questo momento è un allenatore molto più scaltro di Mazzari cioè io ho visto proprio un Mazzari proprio in difficoltà vera e invece proprio a livello di come se fosse proprio un allenatore arrugginito Murigno ancora sul pezzo e infatti ci sono delle cose che un altro allenatore paraculo non le faceva fare ai suoi calciatori tipo Giorgiano, Ogimene, Politano, tutti i giocatori del Napoli vanno abbracciare a parlare così con Murigno cioè io non ho mai visto falla da allenatore avversario nel senso mio giocatore io mi cazzerei dove hai parlare con allenatore avversario ma dove hai e invece lui è riuscito e poi Murigno fermo su queste cose poi la Roma che ha fatto primo tempo falli sistematici sul Giorgiano ha munizioni proprio belle studiate qua e infatti il giocatore del Napoli tanti si sono pure innervositi guarda Politano reagisce su una cazzata però si vede che già si era innervosito di qualche cosa capito infatti la Murigno l'ha vinta oltre che sul prezzo l'intensità in casa eh l'ha vinta anche su ste su ste cose qua eh perché non è un caso io penso proprio Ale proprio su queste principalmente perché poi ehm se vedevate anche le ultime partite del Napoli Napoli ha squadra nervosa in questo momento perché comunque viene da una stagione in cui gli riusciva tutto adesso non gli riesce niente e quindi questa cosa qui tu la devi sfruttare e tante volte l'abbiamo detto Murigno non ha mai sfruttato la potenzialità della Roma su squadre che erano in difficoltà perché tutti quanti che ha giocato a pallone sa che se tu sei in difficoltà dal punto di vista mentale è lì che devi battere poi per carità per me giocando così difficilmente va in Champions questo l'abbiamo già detto però questi tipi di partite li vinci li vinci sulla mente perché la squadra avversaria è debole su quello no no ma infatti lo sai che ti date dall'aria sta partita mi ha dato l'aria che in partite secche Europa League magari Coppa Cati di giocare così queste magari le porti a casa alla lunga non le giochi tutte così soprattutto queste partite riesci a farle in casa e poco fuori per tanti motivi certo ripeto la Roma per me non è che ha meritato di vincere però nell'arco della partita ha trovato le sue armi che ripeto secondo me non sono sufficienti a giudicare la Roma come una squadra che ha giocato bene e che ha meritato la vittoria però nel caso chi ha giocato a pallone sa che ci sono queste partite sporche e quindi siccome io attacco sempre Murigno però sono onesto intellettualmente dico che comunque questa partita qui 11 contro 11 Napoli giocava ma io a un certo punto ho capito che comunque quella partita con l'episodio andavi a risolvere perché loro si innervosivano l'hai giocata comunque come dovevi poi a me non piace come gioca la Roma ma non è che posso venire qua e dire le stesse cose ho visto una cosa diversa e la dico già la velocità di esecuzione rita con l'intensità era diversa è un calcio a Murigno gli piace sto calcio che a me piace però so che comunque te può portare risultati questo è un calcio che i risultati ti può portare giocando con questa intensità aggressività e con queste malizie i risultati può portare però a me non piace io so appena altro calcio sono esteta del calcio e poi Ale secondo me comunque nel lungo termine i risultati che ti porta sono comunque scarsi perché quando tu cominci a giocare con squadre forti non vale più la situazione ecco perché in campionato alla fine soffri perché queste sono partite che comunque poi ne giochi 38 ne poi vince 3-4 così 5 dopo di che deve esserci la sostanza però se andiamo a analizzare Roma-Napoli io ti dico ho visto una formazione diversa ho visto un piglio diverso la fortuna ce l'ha sempre avuta non è che è la novità i giochi del Napoli secondo me sono i nervosidi basta questo per dire che la Roma arriverà a quarta per me no basta questo per dire che la Roma adesso vince a Torino oppure fa 4 punti nelle prossime 2 che secondo me serve come il pane no però gli va dato atto perlomeno di aver interpretato la partita con la forza che c'è la Roma ma poi per me la forza della Roma è molto di più e messa in mano un allenatore giochista secondo me la Roma potrebbe fare di più però questa partita io la giudico così e sono contento perché la Roma se non vinceva questa partita era una situazione drammatica parlamoci chiaro sì sì comunque mi ha dato l'aria la Roma proprio rispetto al Napoli è una squadra forte fisicamente una delle squadre con l'Inter e la Juventus io credo Roma-Inter-Juventus sono le squadre più forti fisicamente del campionato proprio fisiche di impatto fisico a me è piaciuto anche quando tu giochi a due a me è piaciuto tantissimo l'idea di mettere Bova al posto di Pellegrini ma perché Bova è più forte Pellegrini no però se tu devi interpretare quel modulo con un centrocampo che deve essere in aggressione non di produzione di gioco Pellegrini un po' gioca anche il ruolo quindi diciamo che qualche cosa mi è piaciuta ripeto io sono onesto intellettualmente per me ad oggi la Roma non è favorita per il quarto posto ci sono squadre secondo me che stanno dimostrando di più però la partita dell'ultima partita mi prendo le cose buone che ho visto sperando che ci si lavori di più perché per me la Roma deve giocare con due punte primo perché Di Bala te garantisce il massimo il 40% delle partite e poi ragazzi Pelotti e Lukaku in due fanno 400 gol in carriera quasi ragazzi ma chi ce l'ha un attacco così che fa in scala la panchina dai a Gris fanno passare sta rosa come se fosse lo spazio lo dico sempre ragazzi è una rosa che per sta serie a per carità di Dio non è da Scudetto non è da Champions ma è una rosa che per la serie a ma lo dicono chi guarda il pallone veramente 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 gritto dicono tutti ad altri livelli la Roma è una squadra forte per sta serie a è più forte da Lazio è più forte dalla Fiorentina uno può dire quello che gli pare la Roma è una squadra che tolto l'Inter può giocarsi la Juve con Milan poi dobbiamo chiederci perché la Roma non lo fa allora sono altri tipi di cose comunque Borussia tanto adesso in questo momento la Roma farà due difensori poi vediamo Sanchez io dico quasi sicuramente ormai posso dirlo io credo proprio che andrà via e perciò potrebbe la Roma fare un altro difensore magari potrebbe escire qualcuno da qualcosa davanti Spinazzola bisogna mettere un punto interrogativo a giugno non verrà sicuramente rinnovato il contratto però potrebbe andare via anche adesso però c'è la situazione Bonucci Bonucci io so che ci sono un altro paio di giorni e poi se la Roma non dà l'ok definitivo può saltare definitivamente una trattativa ben impostata dove sta spingendo molto il procuratore però manca l'ok della Roma tu favorevole a Bonucci dimmi un po' la tua Cristian o no? io? No io penso che forse è l'ultimo giocatore sulla terra che vorrei la Roma prendesse ma ti dico anche una cosa lasciò stare il suo passato alla Juve che comunque è gravissimo ma proprio come persona è sempre stato un antiromanista quindi non so che cosa possa fare lui con la maglia della Roma ma vado oltre storia di infortuni ultimi due anni devastante non gioca mai 37 anni cioè questo è il progetto giovani cioè non è proprio l'ultimo giocatore sulla terra sia dal punto di vista del suo pedigree sportivo perché è stato uno dei giocatori che più mi ha fatto schifo calcisticamente insieme a Montero e Nedved e quindi accostarlo alla Roma già mi viene l'orticaria però posso capire magari fosse un gioco dei 30 anni che potrebbe far fare grandi risultati alla Roma mi mangerei la lingua ma lui andare a vedere gli ultimi due anni raga è uno che per mangiare i spaghetti si è fratturandito dai su i fredkin e qui penso che debbano essere intelligenti nel capire che a tutto c'è un limite no? certo socio di minoranza Gris società notizie societarie foglieri c'è qualcosa che bolle in pentola? allora io sono stato a Dubai per dieci giorni ho incontrato un po' di persone ma non sono andato diciamo per motivi finanziari ma per motivi personali io quello che dico è che lui foglieri notizie su di lui non da lui però questa volta non da il suo entourage ma tutti mi dicono che comunque lui in Arabia Saudita sta prendendo molta credibilità mi dicono che comunque è una persona che nell'ultimo anno ha fatto svariati affari con le terre rare e che lui vuole prendere la Roma chiaramente i fredkin non vogliono vendere in questo momento però il suo interesse non è scemato e comunque persone che sono all'interno del mondo della finanza mi dicono guarda che questo i soldi per comprarla ce li ha poi può piacere può non piacere ma non è uno che sa rendere facilmente e se ad oggi i fredkin dovessero voler vendere lui è pronto ad acquistare la Roma anche facendo un rilancio corpospicuo della cifra poi io non credo che lui diventerà presidente perché secondo me i fredkin continueranno specialmente se ci sarà lo stadio però su di lui vi posso garantire che negli ultimi mesi si è mosso molto molto bene e i soldi per comprare la Roma ce li ha e come sul socio di minoranza non ho notizie io quello che sapevo ce l'ho sempre detto che secondo me l'interesse della Roma nel mondo arabo c'è concreto e in passato ci sono state anche delle offerte però al momento i fredkin hanno declinato tutto ma non è un declinare definitivo molto dipenderà dalla questione stadio che personalmente l'ho sempre detto febbraio marzo si saprà se si farà o no come vedete già ci sono dei dati perché in tanti avevano detto sapremo qualcosa entro fine dicembre invece assolutamente niente io ho detto primavera perché comunque gennaio febbraio saranno i mesi decisivi ripeto sullo stadio è stato fatto tutto il possibile se lo stadio non si riesce a fare nessuno mai potrà fare lo stadio a Roma dovranno scegliere un altro comune limitrofo come può essere Fiumicino ad esempio perché comunque è stata impostata bene quindi se questa cosa qui non va a buon fine entro febbraio marzo io credo che poi potrebbero i fredkin essere più aperti eventualmente a una cessione perché comunque lo stadio garantiva a loro un un introito importante non che risolvesse tutti i problemi però comunque erano soldi che loro ci puntavano tanto quindi questo secondo me le notizie ne sapremo intorno a febbraio marzo i quartieri dice sempre tranquilli di una 27 a centrale la Roma giocherà lì però boh ma qui mi pare tutto fermo della tentezza è incredibile non lo so vabbè comunque è follia ma è così dialogo terminato terminato lì lì